Benvenuti a Reality Italiano. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno infuocando le reti social. La scintilla della discordia è stata accesa quando Oriana Marzoli ha risposto a un utente smentendo le voci che la dipingevano come colei che aveva lasciato Daniele Dal Moro durante una diretta su Instagram. La verità, secondo l'influencer venezuelana, è ben diversa da quanto si è detto. Con tono deciso, Oriana ha rivelato che in realtà è stata l'ex tronista di uomini e donne a mettere fine alla loro relazione. Accusandolo di mentire spudoratamente. Ma Daniele Dal Moro non è stato da meno nella risposta. Ha scatenato un'autentica tempesta di parole. Sfogando tutta la sua rabbia e frustrazione contro l'ex fidanzata. Ora Daniele accusa apertamente Oriana di essere una «mantenuta». Ha ribadito con vehemenza che è stato lui che ha sostenuto finanziariamente ogni loro uscita. Compresi ristoranti di lusso e alberghi di prestigio in città come Madrid. Ha insistito sul fatto che Oriana abbia dimenticato tutto ciò che lui ha offerto, denigrandolo in modo implicito. Un botta e risposta che si fa sempre più avvincente. Daniele non si è risparmiato nella sua furia. Rinfacciando a Oriana di averlo lasciato in Sardegna senza valigie e di aver creato una scena in un locale senza alcun motivo. Doppiamente ingrata e maleducata. Ha sottolineato come, nel giorno del suo compleanno, Oriana non gli abbia nemmeno mandato un messaggio di auguri. Le accuse si sono accumulate, inclusa una lite con la sorella di Daniele e la sua migliore amica, entrambe devote a Oriana. L'ex concorrente ha espresso il suo sgomento per come Oriana abbia minimizzato tutto il bene che ha donato. Lasciando intendere che ora lei debba trovare qualcun altro che le paghi persino l'aria che respira. Quando la passione, l'ira e la delusione si mescolano in un vortice di emozioni volano sempre parole pesanti. Siete pronti a immergervi nell'incredibile guerra verbale tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli?